Signori buongiorno, cominciamo subito con questa tagliata col soncino che è freschissima qua fa un caldo che veramente non si respira e questo va bene secondo step, per chi vuole mangiare nonostante il caldo, un grandissimo filetto di maiano arrostito in padella con i pomodorini, è veramente saporito certo se accettete le condizionate è ancora questo che cos'è? Beppe, fegato fresco, perché dobbiamo mangiare fegato? perché è ricco di ferro, questo che cos'è? cuore di vitello, Stavatore perché dobbiamo mangiare cuore? ricco di ferro, anche il cuore? sì, ma passione questo cuore? tanta passione Beppe, tanto picchio di banco, velocissimo, cose di sostanza e cose fresche signori la fascia stravolta di stamattina è dovuta a due motivazioni la prima, una sushi tra amici, ieri sera abbiamo finito alle due e mezza quando mangi sushi per l'amor di dio con tutto il rispetto per i giapponesi ma è come se abbigliassi quattro botte di canate nello stomaco lo stomaco è un provviglio di sensazioni, acidità, non si capisce niente la seconda motivazione quella più grande il mio Salvatore ieri ha ricevuto una telefonda alle nove e mezza con la T-Stick, praticamente per questione di prevasi non entriamo in particolare ma Salvatore sarà un'altra volta senza la possibilità di andare a mano al momento, io mentre sognavo di passare tre giornate, quattro giornate a pochettano andare a ballare alla music, mi trovo qua, in questa situazione di stop allora io dove vado quest'anno? in tu le cose che prendevi e scusa, in fondo scusa, tu che dai